Ciao bella gente, è ora di aprire la team box di Tiflojon di Zui V, quindi andiamo subito a vedere il dettaglio della team box con la carta promo in bella vista, con tutti i vari starter presenti sulla team box e andiamo ad aprirla, dai io non sto più nella pelle, avete votato anche su Instagram per aprire questa e la collezione di Archeus, quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutto quanto. Allora la carta è questa, iniziamo a toglierla da qui, questa è la carta di Tiflojon di Zui V, chiaramente una promo e qui dietro si nasconde il codice per averla per il gioco di carte online, questa ve la regalerò durante il video, quindi state allerta, ma guardiamo la carta che bella che è, è uno spettacolo. Allora, oltre a questa che finisce già nelle sleeve della collezione di Charizard Premium che mi ha regalato l'auretta per Natale, questa la mettiamo qui, ok. Abbiamo anche dei pacchetti all'interno della team box, chiaramente, due di lucentezza siderale, uno di colpo fusione e un fiamme oscure. Quindi, allora, fatemi mettere da parte tutto quanto. Io direi di partire subito da lucentezza siderale con Susamuroth e vediamo cosa si cela in questo pacchetto. Io spero di non fare errori disumani nella lettura i nomi dei Pokémon e soprattutto nella rarità delle carte, ma non credo. I codici ve li regalo tutti, quelli all'interno, perché non li utilizzo e sono contento se qualcuno di voi ne trae beneficio. Uno, due, tre, quattro e andiamo a vedere questo pacchetto. Cosa nasconde? Allora, una carta energia. Sorwan. Noctol. Ippodon. Combi. Driflun. Psydak. Togepi. Magnemite. La reverse di Goldak. E c'è già qualcosa. Ok, allora. Calma, eh. Perché non mi aspettavo che ci fosse già un qualcosina e una V, chiaramente. Paglia originale V. Guardate che riflessi che ha. Spettacolo. Vabbè, non sarà ai livelli delle Mega Ultra Plus e via dicendo, però io sono contento di come l'hanno fatta. E questa finisce anche lei in sleeve. Quindi, due qui. Andiamo con un altro di lucentezza siderale. Vediamo se siamo fortunati oppure no. O meglio, di nuovo fortunati oppure no. Codice bianco. Tutto per voi. Due, tre, quattro. E andiamo a vedere questo pacchetto. Cosa ci nasconde? Allora, energia. Electro di Zui. Vigore di Gardenia. Whiskash. Washawot. Scyther. Stantler. Yanma. Hutut. La reverse dell'appeso ball di Zui. E... Regi Drago. Ok. Allora, colpo fusione o fiamme oscure? Direi colpo fusione ci teniamo fiamme oscure per il gran finale. Quindi... Eccovi a voi il codice della carta di Tiflojion di Zui. Io vi ricordo che è partita nei giorni scorsi anche la serie mia personalissima su Pokémon Violetto. Quindi non perdetevela perché è la mia prima blind run ufficiale Pokémon sul canale. E nasconde anche delle sorprese in parecchi episodi. Codice per voi. Uno, due, tre, quattro. E andiamo a vedere. In questo colpo fusione, se si nasconde qualcosa. Carta energia erba. Guanti spugnosi. Prostmoth. Simi Seer. Makuita. Rukidi. Darumaka di Galar. Sislipeed. Stuful. La reverse di Durant. Eeeeh... No. Ursula di Galar. Ok. Fiamme oscure. L'ultimo. Dai che voglio che esca qualcosa da qua. Tifate insieme a me e incrociate tutte le dita che avete. Se ne avete più di dieci, meglio ancora. Allora. Codicino per voi. Già in bella vista. Questo girato. Attenzione. Codice girato. Strano. Due, tre, quattro. Eeeh. Energia acciaio. Furret. Stini. Avicoltore. Cabchou. Aaron. Starly. Urloin. Mariani. Jigglypuff. Gotitel. E qui abbiamo finito. Avevo contato male, pensavo ci fosse un'altra carta, ma giustamente quella di Jigglypuff era la reverse e Gotitel è la rara. Quindi, allora, tutto sommato, questo è quello che è emerso dalla team box. Non mi aspettavo di pullare chissà quanto. Però sono contento. La carta VD Tiflosion di Zui mi piace veramente un sacco. E fuori dal, diciamo, dal pacchetto è uscita questa pacchia originale di V. Allora, questo è il termine, il termine del video. Scusate, mi sono incartato, ma stavo pensando già a un altro spacchettamento che sta per arrivare, o è già arrivato a seconda del sondaggio su Instagram. Fatemi sapere voi se avete questo team, se non ce l'avete, se avete quello degli altri starter, cosa avete trovato. Io sono qui a disposizione per voi e quindi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.